sessione di pesca a spinning sul lago di tovel angler concini alessandro alessandro ancora stai pescando un artificiale che tipo di artificiale con un pesciolino finto un minnow affondante o affondante fino adesso hai avuto inseguimenti ho avuto due inseguimenti due belli esemplari ci è giunto notizia che la settimana scorsa ti è scappato un salmerino importante si è vero è scappato un salmerino importante 40 centimetri si è riuscito a portarlo fino sotto la barca si e dopo il mio papà non è riuscito a tirarlo su questo è l'artificiale che sto usando effetto alessandro eccolo inquadriamo un bel minnow affondante con una colorazione che cerca di imitare la sanguinerola che il pesce foraggio locale come vedete l'ambientazione della pesca è estremamente interessante parliamo del lago di tovel siamo in trentina il parco damello brenta e questo è il famosissimo lago di tovel alessandro quali sono i punti più buoni per la pesca al lago di tovel beh questo dove c'è l'acqua più bassa e poi una zona chiamata cool del lato ho capito adesso vediamo se riusciamo a filmare una una cattura